sabato 22 settembre vi aspetto all'auditorium di trento per festeggiare i 10 anni di irifor in un'epoca dove digitiamo prima di pensare giudichiamo prima di capire fotografiamo prima di guardare scopriremo che i non vedenti ci possono insegnare molto tanto per cominciare a guardare attraverso l'anima vi aspetto sabato 22 settembre ore 20 e 30 auditorium di trento con il sorriso in mano per vederci chiaro